ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco la mio m a cosa serve la mio m a un parafarmaco appartenente alla categoria degli fitoterapia tinture madri o estratti idroalcolici è commercializzato in italia dall'azienda fito medical snc informazioni commerciali titolare fito medical snc concessionario fito medical snc categoria di appartenenza fitoterapia tinture madri o estratti idroalcolici confezioni la mio la mio 100 ml gocce 50 gradi la mio la mio 200 ml gocce 50 gradi la mio la mio 50 ml gocce 50 a la mio m la mio m 1000 ml 50 a la mio m la mio m 500 ml 50 a indicazioni agisce favorevolmente sulle naturali funzioni fisiologiche genitali femminili impieghi disturbi gastrointestinali infiammazioni gastriche pesantezza inappetenza flatulenza colon irritabile e emorroidi disturbi ginecologici e urologici leucornea dismenorrea metrorragia fibromi stasi mestruale disritmia della menopausa cistiti poliuria tosse irritativa con muco delle alte vie respiratorie stati infiammatori cutanei e delle mucose modalità d'uso assumere 30 gocce diluite in acqua tre volte nell'arco della giornata tenore per dose giornaliera la mio 2000 mg descrizione e caratteristiche estratto idroalcolico da tessuti meristematici vegetali freschi non essiccati avvertenze tenere al di fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano non eccedere la dose giornaliera raccomandata non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato allergeni il prodotto non contiene ingredienti indicati nella legato i bis della direttiva 2003 89 c e successive modifiche componenti e ingredienti alcol lamio lamium album l parti aeree 43,5 per cento acqua grado alcolico alc 50 per cento all analisi ingredienti conservanti assenti senza glutine 20 ppm antiossidanti assenti non contiene oggi m conforme fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato